Ciao a tutti, bentornati da Drone and Ragni, siamo qui con una cumbricola di gente, dite ciao gente, ciao, bellissimo, bene, ma Emma ha preso casualmente l'invoker o casualmente per farlo? GG, io prenderò la tornatura fionda, meglio che smetti registrati, guarda, si gioca a dota purtroppo è così, eh ma guarda che se tu scrivi perché senza x capo non è che ti fanno pagare le lecce che metti in più, eh? Aia, 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 ok giochiamo 5 contro 4, potremmo vincere una di queste, ma perché uno di loro non so, vabbè perché sei disconnesso dalla partita, aspettate che si riconnetta, ascolta, prendi il acceio 2 di tecis, o, o post, prendete qualcosa di tecis, ma lo faccio ventcliccara, lo faccio ventcliccara, prendete il carry almeno, oh ragà, hanno trovato la brunetta, la squarta di brunetta, guardate, prendi un picca invece di postare cazzate, ma lui è il mentore ma che cazzo di problemi avete? Bella, con la visuale di ragno, guardate con che maestria prende le ward, Dio santo, o guardatele bene queste due ward perché non ne prenderà più per tutto il game, mi hai preso le ward ragno, ma no ragno è bravo, mette le ward anche in culo a tua madre, se volete, cazzo c'ha, c'è il cazzo a forma dei ward ragno, ovvio, il mio cazzo guarda per tutto, occhio che se ti fa l'occhialino sono brutte cose eh, te vai gli occhiolini, bene, allora io li vado a umiliare dove, bot, top? no, io vado bot, tu chi sei? Lancer, allora vengo con te, no che con me, tu chi sei, Slark? ma io sono il Techies, tu sei il Techies, ok, mi sa che devo fare cosa non ho capito dov'è bisogna prendere, non ho capito dov'è bisogna prendere e lasciamla così faccio il livello 2 e si ne sbatte al tami spruolz oh ma guardate che piazza le bombe costa eh parca droia eh, devi comparle, devi comparle in Siria, cazzo ogni bomba che piazza poi ti fanno lo score eh ma guardalo bene, è lui il tuo obiettivo è lui io so già che qua perdiamo la legna, capis eh, beh, probabile dai vediamo cosa stanno facendo top non sono in grado di prendere l'astic se la giocate bene ve lo fate otto volte si no, io manco i lastic famose parole ma non ha lo scudo il birla? no, non ha lo scudo, lo shuttiamo, questo lo shuttiamo ultime parole famose appena puoi rompiti il cazzo a nastri eh, lo sto facendo nastrificali il cazzo eh c'è altri due cariche di bottiglia nooo aia aia c'è l'oracolo no aia oh ah oh ah oh mi serve una ward qua eh aia chiede la cm ecco 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 Vabbè, 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 ho compri la ward Vediamo come Michele si inizia a comprare ward da solo Ah, questa creep che cazzo vuole Ascolta, io devo farmare Involcar, dai, tutta volta... Il campo è minato, mi chiesto non gli odio Allora... Io devo prendere i creep, ok? Sì, magari non ci morire! Ecco Iuto! Iuto! Cosa?! Lo sto non andando a prendere Bella! La E! Di Oracle fa male Vabbè, uno Slark che muore da Oracle Ehi, non fa il cazzo, raggio Ma perché hai sempre coraggio, coraggio? Voglio il lastit! Non prenderli la stit, no? No, non devi pierre nel culo Ma non dirne più, dai No, ti sto a guardare Sì Guarda, guarda che ward Tattica F***, sto lastitando a merda Sto lastitando a merda Allora... Ehi... Ehi... Sai, gli eravamo pure abbastanza così Dai, fallo, fallo VACCI, VACCI! Anche l'Oracle Anche l'Oracle Anche l'Oracle Anche l'Oracle Avevi di sorpresa Oh no, è tornato, è tornato, è tornato è tornata Cattroia!!! Ma io sto rubando stazze Andi mi dicendo più forte ogni cosa sono le ponte di Ice Rack dove è morto il bug? mamma che pippe questo se lo sto trollando con l'embre il tornado manca l'embre mi serve il livello 6 perchè mi devo caricare la vita che bello con la pistol made che mi dà mano vieni qua che ti scopo da dietro anzi da davanti manca l'embre il pollo se ne manca ancora l'embre eccolo lì, eccolo lì, guarda ero via vita c'è l'enigma qua c'è l'enigma andiamo a prenderlo silencio andiamo a prenderlo aspetta che c'è qua ember andiamo va bene ci dura guardate è ancora lì si si ehi 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 venite qua passate di qua una mina non basta eh ah pure il corriere che co**** lo ha preso Occhio, non inseguirlo, non lo prendi più. A me? Eccolo lì. Che tetto di arara. Dai basta, che mi danno il livello 6. Voglio il livello 6. Continua a mancare l'ember. Con il fassone ne freddo. Chiesi, forse è stato qualcuno. Oh, eccolo qua, eccolo qua. Guarda la mia vita, guarda la mia vita. Guarda la mia vita. Guarda la vita, guarda la mia vita. Viala, viala. Tanto di fisico, se ti vuoi spadere, lì fai bu. Oh, andiamo all'ember, dai. Aspetta, fammi la grip e dopo ci andiamo, se no me li vede. È già livello 6? Lui? No, potete andarci tranquilli. Andiamo. Non puoi neanche scappare. Eh, sì, sono un po' distante. Eh, però c'è sta... Shadow Blade, ha lasciato Blade, questo rumore. No, sì. Ero io. Ero io. Perché non lo vedo già più? Ma questo sta per realmente sottoturri. Bello. Eh, ma vai via. Scusa, per che cosa stai facendo? Vai via. Ma porca troia, sei andato a morire. Per forza, proprio. Se faceva schifo la vita, ti faceva. Poo, la vita. Che schifo la vita. Ahia. Ma che cazzo... Vai via, porca Eva. Prendi un creep a caso, ti sfoda. Ragno. Vai la v-dubbia. Sì. Aspetta, no, però, adesso... Guardalo, guardalo. Lark, arrivo io. Prendi... Boh. No. Evita tutto. Mamma mia, il juke. Sì. Non ho ancora capito, ma era un figlio. Un team per territ ogni volta. Cazzo me. Sì. C'ha 512 persi. Ahiaiaiaiaiaiaiaiaiai. Giusto, 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 giusto. Giusto, giusto, giusto. Ragazzi muori. E fanno bene a ucciderti. Te lo meriti proprio. Tento, attento. Ah, porca troia sto pack, che idiota. Oh, buttava via le mine migliori. Sì, sulla mina! Ah, ma il pacco ha fatto espodere questa, se non ci andava, cazzo. L'ho visto un acolo tipo... Non ho velocità di movimento sufficiente a fare i Duke. Ruppano! Ruppano! Fisci, fisci! Fisci, fisci! Ha fatto altro a parte fiddare. Sì. Un pack, dico. Mamma mia! Evitare un attacco del Tecky se... È OP, no, è... Troppo forno, il Tecky. Che succede top, regà? Niente! Salta lì! No! 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 No, cazzo! Penso di merda! Ma poi, se salti, quando la X si dovrebbe portare indietro. Eh, i Duke. Eh, i Duke. Vabbè. Sto arrivando sul conca. Non ho un cazzo. Ooooooh! La barca cazzo! Oh, non ha un cazzo! Ti fa, ti fa! Ti fa, ti fa! Sei morto! Oh! Che culo! Non è che culo! L'ho curato! Dai, 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 no! Non date via più, ci diamo! Non date via più, ci diamo! Non date via più, ci diamo! Di giù! Questa mi... Questa mi... Questa mi è meglio giù! Oh, cane scheroso! Quell'altro! 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 Un colpo! Oh, porca madonna, eh! Mamma mia! Non puoi ridere, padre! Ah, un raggio della madonna! Se la tiri anche qui vicino a te... Esplode... Esplode... Esplodeva! Colpa mia! Era morto! Un pezzo di merda! Eh? Si muove! Si è specializzato con la W, l'altro non... L'altro non le piace! Beh, ghiacciare alla fine si rimangono bloccati per un po'... Oh no no... Andiamo! Eh? Vieni! 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 Eccolo qua No, si sono messi Ho urlato Ok, si, si Giucca, giucca Beh, che fai? Prima mi attacchi e poi scompari Eh, u, vigliacco Eh, ma non è possibile Che quasi salvano tutti Bravo Bravo Oh no, le botte, sei fermo Sei fermo Ma sei un pirla Guarda là, che cazzo sto a fermo Ma a me la gliela taglia Enigma Che non gliene frega un cazzo delle kill Porca, intanto era sempre una kill Vabbè, ma Enigma è un support Oh, guarda, la te non puoi andare a seguire Oh, ma a me che cazzo me ne frega A me io mi sono fatto 10 carica Stato solo, ammazzavo la gente a raffica E sti cazzo, c'ha una kill Oh, l'ha fatto le altre 5 Ma giucato lui stavolta Nooo Eh, vivo uguale, vivo uguale Statemi colpi Non è, è morto, è meno Eh, io non odio che suicidio Meno non cazzo Bad, 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 bad Vedo ragni in difficoltà Vedo ragni in difficoltà Bravo Oh, vai via adesso Il Juke Gire di qua No, devi Farò occhio alla marca Madonna, ma devo essere ritardato Se fossi andato di là sarei morto Infatti Meno male che ti ho indicato a oscillare addosso Occhio alla marca Guarda, mi allontano un attimo Nacos Sì, io so Vediamo un po' Allora Chi è il primo per Puckkid E tutti gli altri non si vedono Chi è il primo per NetWort Bastard Oh no Bello Ancora? Ancora? Sempre lì passano Sempre lì Non è noto ancora Perché cazzo non hai piccato Tekkis nel torneo Ma c'hai con me, Doria? Oh, cazzo Che girati e attacca Ma non sai che All'Internation non hanno piccato Tekkis Hanno dato il GG Quando ha fatto ultrakill? Guarda che io la ultrakill le faccio proprio Ora vai via Ma vai sulle mine Sulle mine Ci sta andando Ci sta andando No, non state sulle mine Mi rovinate le mine, cazzo Ecco Ma quello Ma non è morto lei Madonna Questo c'è un culo Dio Il mana è il massimo adesso Buono cazzo il mana Ha preso pure le mina Non c'è se crede C'ho anche l'Ultra Ah ma perché le ha prese di striscio Fan 200 se li prendi da lontano Occhio a te No, torni indietro Torni indietro Ma il silence Vado sulle mine Ma il giro Non massacro E' giro il giro Il giroema ho Ma questo là è la kill Ha 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 có Ma quattro ruot Lasciatelo su le mine su le mine eh vabbè adesso basta la roba ragazza è andato quell'altro sono morto bene io però chi va a cercare la gente no 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 è vera tira le mine sulle mine queste si che sono fatte l'app paradota paradota paradosso eh ci avevo messo tutte le mine bene eccolo ma c'è le mine in questa partita esiste si eccolo morto no c'hai fatto morto si è anche fermato no ha detto che ammazzo lì ha detto da te giuro stavo lì l'ammazzo aspetto che l'ho fin... oh è fatto al culo ha detto lo ammazzo finisce la spezzella poi c'è ripensato vabbè dai l'ammazzo lo stesso vai indietro evoker possono cancel le mine potevo salvarti se andavi indietro cosa hai fatto? stanno guardando stanno the world hanno the world'ato qua ho visto quando andavi qua indietro ti salvavano? si si lo so dove è andato il tizio brutto? chi è il tizio brutto? è scomparsi qualcuno mi dà una mano qua? il donut l'enigma mi sa che... non fa più un cazzo no mi sa che proprio sei disconnesso e non torna più ah no è tornato adesso voglio tirare giusta torre e ammazzi crit arriva forse l'altro lo fanno fuori? no non arriva più questo qua eh lo fanno fuori? è uscito fuori dagli spugli quell'altro ma che vuoi da me? niente ho pure fregato ma sto bastardo era una trappola figa 5-5 ero 5-1 cazzo occhio all'oracolo io 5-3 ero ma scuola ma scuola acciaio metti le mine esattamente lì hai ragione le metto lo shop segreto no 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 esattamente lì e il ragno rimette le world esattamente lì l'oracle è esplodo sulle mine oh la torre tranquillo c'è il para enigma tanto cazzo di enigma oh oh vaffanculo vieni qua vieni qua si si black hole cazzo me sta me si è fermato il gioco aia aia guarda che ti vedono teckish guarda le mini mid mini mid no no occhio però quando c'è pack fa le spade tutte insieme vabbè certo si no ma volevo spessare che mi sono meno aia la barca e vabbè che cazzo vai vieni ah che palle avevo lasciato e ho perso i nuovi soldi cazzo merda quando quando dice ho perso i soldi manco li tipo per terra continuo a crepare senza fare ok l'oracle può venire a devordare adesso voglio colvere il troll appena lo vedo sulla mappa guarda quanta vita ha Amber forca troia c'è qualcuno ci hai un cazzo di investigative no non non questaedia lei mi ha morto 3 8 Guarda che passa di qua, si, si, no? E' lì ancora, eh? Ci passa Kunkka? No. Ah, no, hanno visto che c'ho le mine. Mortella. Occhio! Bello! E' che va, bravi. Occhio, non è seguirlo. Buon scelato, peggio. Madonna, finalmente compriamola. Cazzo merda. Pure generale. Guarda che crema, sta pure in merda. Te la lascio? No, no, te l'ho indicata, vai pure. Te la lascio? Qualcuno? Beh, io ce l'ho la bottiglia se poi la prendo io, se ti serve invece Viola. Viene a prenderlo, no, non mi serve un cazzo. No, ti serve per il mano a prenderlo. Attacchi al cazzo, stronzo. Non ci attacchi al cazzo. E' anzi, mo' appena finisce sta merda, Viola, ve li vengono. E che diventa aggressivo? Vai su, la torre. Give me the courier. Cazzo merda, adesso lo vado a ammazzare tutto. Guarda, guarda, guarda. 522 di speed. E' morto. Ecco qua. Qui. Anche questo. Anche tutti, tutti quanti. Adesso vi culano. Andiamo via. Se lo silenzi, se lo silenzi. Cazzo, però sto all'agga, addio caro, sto all'agga. Buono. Eh, però l'abbiamo ammazzata. Aia! Aia, aia, aia. Invisibile, ben visibile. Eh, t'ha inculato, t'ha inculato. No! Incazione su la mine. Meglio prendere una generosità. Tutti! No, 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 no. Il teghe, sta di spogli. È violente. Eh, non può farmi correre. Aiutatelo! Selvatelo! Ma perché non gli ha fatto un cazzo? No, Enigma! Giratemi, ragazzi! Lol. Bucco nero buttato. Stai andando dalla roccia. No, no, no. Dovrei aver incastrato qua solo. Mostra la barca! Uh! No, sei suicidato da Roshan, guardate qui, cazzano strike a caso. Ma perché? Mana, mana, mi serve mana. Dove sei? Io ho le scarpette, io, se vieni qua da... E dove stai? Aspetta, c'è. Capene, comprate. Mi avete visto? Vieni, sono di prate! Avete visto che ho preso il tizio qua, saltando dal fiume verso di lui? Madonna, se sei forte. Porca troia, veramente. Porca troia, che gioia. Vorrebbero chiamarmi all'international. E appunto, a pulire la stanza. Vieni, inizio, Rational, vieni. A pulire la stanza prima che giocano, sì. Oh, guarda quant'agilità che ho rubato. Sono top, ce n'è uno top. Ma è giusto il tizio di World Warcraft? Ma è giusto il tizio di World Warcraft? E sti cazzo? E sti cazzo? E sti cazzo? E sti cazzo? E la madre puttana non c'è. Guarda che vado di portale. Rega, apri me da questa nuova. Sì, partita sta lì. Quanto cazzo sei aggressivo? Oh, madonna. Te la possono fare. Eh no, eh no, eh no, eh no. Se hai gridi... Ma se ne ho tirato la ulti, io lo pollizzo. Dopo se si interrompe. E via, dai. Dai, togli sta pausa, sei tornato. Dai. No, no, stacoltà. Dai. Ma posso mettere io? Però Knuckles, Knuckles. Bello! Il salto della vita proprio. Oh, madonna, quanto cazzo levi. Torre di merda. Le barche. Oh, ce n'è uno qua, eh. Occhio. Qua, 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 pigliatelo. Dov'è? Eccola! No, è qua. Un enigma. La con di salto della vita. Eh, non vedo un cazzo. Eccolo. Oh, ma ne grande. Gia lo. Dov'è... Gia no v'è... Gia no v'è... Giaono, huh? Gio adventure monimatic. Oh, ma ne ? Oh, ma ne... Sì USA. Oh, man. Sì I don'e più...